Allora, ieri viene Patrizio a casa mia, chiedendomi, vesto bene così? E io, certo! Perché penso che lui vesta bene? Pantalone nero, camicia. Eravamo io, lui, Martina qua, voleva aggiungersi con noi stufi, quindi la serata si stava per organizzare e volevo andare in un pub di musica. Abbiamo pensato al Blue Note, abbiamo pensato a dei pub metal, visto che io ho da veramente 15 anni che non vado in uno e quelli là dove andavo erano siciliani, quindi erano pannocchie, fino a quando Martina, che è già alla ricerca di un locale, dice... Sai cos'è il Fabric? Una Madonna di bellissimi locali milanese dove fanno anche musica dal vivo. Yes. È una delle più grandi discoteche. Lei dice, guardate, c'è il mai dire Goku al Fabric. Io la guardo, manco mi avesse detto, guarda, c'è il cazzo che vorrò succhiare dopo quello di Marco. E le dico, stai scherzando? E lei, no, dai, carino, ci sta. Le ho detto, io non passerò questa nottata del 24, febbraio 2024, ad ascoltare canzoni dei cartoni in italiano, plaggiate da tutte le altre estere, assieme a voi. Pensavo che fosse un torneo di mai dire Goku. No, è una serata disco con le canzoni dei cartoni. Remixate? Lascia che io narri. Perché tutto quello che tu puoi pensare di brutto sarebbe generoso. Io inizio a guardare altri locali facendo veramente l'addio. Cioè, ragazzi, smettetela. Ma fra loro si sta creando un'energia elettrica, quasi una kamekamea di ok... Che io dico, ma stiamo veramente andando al mai dire Goku? Ma c'è il Headbanger Club, c'è il Grey Fox Club. No! Io faccio... Ragazzi, dobbiamo andare là. Dai, andiamo! Ti diverti... Patrizio dice... Io so che dentro di te c'è una voglia che ti farà sballare quando vai là. Faccio Patrizio... Non c'è. Quello di cui stai parlando è una tua invenzione. Non esiste alcuna voglia dentro di me che possa farmi anche solo avere un granello di allegria quando mi troverò lì. Perché io conosco quelle persone. Sono tutte dei trentenni, quarantenni... Pazzi! Pazzi! Che è l'unico momento che hanno di splendere è quando c'è la canzone di Dragon Ball GT. Versione Tecno. La serata inizia, ci vediamo con Stupi, andiamo a mangiare in un posto, bro, che era bellissimo quanto terribile. È un hot pot, quindi io... Cosa vuol dire? Che vuol dire? Gradiente, sei in questo tavolo, mettono un pentolone che bolle mentre tu mangi, che è diviso in tre. Ah, figo, però. Fighissimo. Fighissimo. Tu prendi... È palloso perché fare sempre così per un'ora, vabbè. Finiamo di mangiare. Io sto un po' male, ma nel senso che cago male. Comunque riesco a curarmi. Andiamo al maglio di Goku. Già dalla fila, la situazione è tremenda perché tutti mi riconoscono. Quindi iniziano a dire... Ma quello l'hai, Marco? Marco? E dico, ragazzi, potevamo anche aspettarcelo, no? Vabbè. Iniziano tutti già a darmi del bastardo. Ma dai, vivitela bene, Marco. Ma che hai? Che faccia è questa? Quella di quella che non voleva andarci. Sembra che tutti, i tutti che hai descritto fosse la unica imitazione di Patrizio, comunque. Sì, ma ce l'aveva anche Stuvio e anche Martina. Proprio una bella combriccoletta. Vabbè, ci mettiamo in fila. Spuntano dei miei amici. E mi fanno... Anche tu qua. Sì. Becco dei fan. E praticamente... Aspettiamo... La fila scorre velocissima. È chilometrica, ma è velocissima. Entriamo e mi accorgo di qualcosa davvero strana. Ovvero... La serata già era iniziata, da un'ora. C'erano canzoni. Canzoni di... Tutti i tipi. Di cartoni. Heidi. Megamans. Klimberg. Tutti i cartoni di quando ero piccolo. Ma io mi aspettavo una plat... Ciao, un tacco di gente, Jeff. Io mi aspettavo una platea... Di... Trentenni, quarantenni... Super eccitati. Yao. Il contrario. Erano... Dai sedici... Ai venticinque anni... Tutti... Spermi. Oh wow. Ovviamente, quando poi arrivavano i Puffi Siam Così, o le canzoni di Dragon Ball, tutti saltavano. Ma saltavano... Col bicchiere. Fino a quando... Martina fa... Andiamo nella zona fumatorica e fuori... Sì! Usciamo. Prendo l'aria che più mi serviva. E io inizio a guardare tutti. Quindici euro per entrare. Grazie per averlo detto, importantissimo. A testa, a testa, a testa. Ho stata serata di... Sette euro qua a Milano, cento volte meglio di questa. Mi guardano tutti e fanno cavolo, ma... Che pubblico brutto, e a ciò... Eh, vero? Ok. Eh, no, minchia, ma... Quindici euro... E la birra costa... La birra costava dieci euro, bro. La birra più scarsa, la merda, la bionda più scema. Avevi un drink free, ma se volevi la birra alla spina, dieci euro. Dieci euro! Non l'avevo mai sentita neanche all'estero. La birra dieci euro. Eh, rientriamo... Eh... E spuntano sti figli di puttana, si chiamano i CDs, tipo una cosa così, che sono sta cover band dei cartoni. Eh... I chitarristi hanno entrambi gli occhiali LED luminosi, e... Se la tirano... E un chitarrista, secondo me, deve tirarsela, soprattutto se fai cose come i cartoni, cioè figo. Il problema è che facevano sempre le stesse note, quindi fare così e stoccarsi, quando la mano è sempre in un livello della chitarra, mi fa vedere che sei bravo che mentre ti stocchi riesci a capire qual è il livello di tenere la mano. Ma non stai facendo un cazzo. Ma tralasciando questo... Siamo d'accordo. Ok. Il cantante... È un Nicola Restuccia, che ce l'ha fatta nel suo non farcela, E inizia questa canzone dei Nirvana, che se non sbaglio era la classica Creed, che a un certo punto, quando finisce l'intro musicale, diventa Billie Jean. Tutti quanti sono confusi tre volte. Perché ok, non è dei cartoni. Ok, è Nirvana. No, è Michael Jackson. Lui non canta nessun altro. E mi dà di Ronny. We can't for what to do. We don't know, we don't know. We don't know. E mi dà di Ronny. E mi dà di Ronny. E mi dà di Ronny. Billie Jean. Arriva questo bro. Io sono paziente se mi mostri una cosa buona. Ma in questa serata non solo non ce ne sono state, ma che succede alla fine? Che il chitarrista fa il solo, stoccandosi come un pazzo. Il cantante va da lui. Prende il microfono e glielo avvicina alla mano che stava suonando. La chitarra era elettrica. Non ho mai neanche pensato a questo. E io ho una mente profana, una mente blasfema. Voglio fare ciò che gli altri non fanno per sentirmi quello che fa quello che gli altri non fanno. Un alternativo gay sono, in poche parole. Ma il microfono alla chitarra elettrica durante una so... Che poi può fare interferenza. Sicuramente bene non fa. Io non l'avevo mai visto. Io rimango a bocca aperta. Gli dico Patrizio, è lui. Me ne vado in bagno. Fortunatamente, nonostante fossero bro, un miliardo di persone. Trovo il bagno bello pulito. Mi chiudo dentro. E mi faccio venti minuti di solitudine. meravigliosi. Mentre sto cagando. Mentre cago. Mi mando un messaggio a Martina. Vedi che ce ne vogliamo andare. Ci raggiungi fuori. Rispondo come non ho mai risposto così veloce. Certo. Ce ne andiamo. E se oggi tu gli chiedi come è andata, loro ti dicono è stato carino. E secondo te era il gusto veramente di quello che hanno vissuto? Era veramente l'over in culata che non riuscivano ad accettare sul fatto che stavano succedendo veramente troppe, troppe, troppe cose. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Perché a quanto pare queste cose hanno dato festivo pure a me. Ma se tu vai in un live e paghi 15 euro e non bevi. E magari non sei il tipo che beve. E non balli. E magari non sei il tipo che balli. Cosa vai a fare al magliere Goku? Ultima cosa che mi ha fatto proprio ha messo la ciliegina di merda nella torta di sterco. Me ne esco o menisco il famoso osso e vedo la locandina enorme banner in tessuto del mai dire Goku e non solo non c'è nessun è tipo il classico decoupage di personaggioni Nami quella là non solo non c'è nessun personaggio di Dragon Ball nessuno ma c'è il nonno di Up con i palloncini e non solo non c'entra un bene amato niente ma è l'unico cartone in mezzo a tutti quelli che non ha canzoni da cantare io non ci ho capito niente di quella serata c'era un bordello di gente si saranno fatti un miliardo di euro il nonno di Up neanche gli indiani che fanno le locandine per le feste di compleanno neanche gli indiani io allora la cosa ambiquissima di questa serata è normalmente che quando le fai tipo a tema al di là del fatto che tu hai proprio svelato il contrario di quello che ci si è aspettato una serata a tema ovvero trovare quell'esatto tipo di target esattamente quel tipo di target la cosa completamente pazza è che quando tu sai di volerti appillare a qualcosa che sicuramente ha un effetto non tanto di vendibilità rispetto alla fruizione del momento ma l'effetto nostalgia già l'inganno più grande è sapere che quelle serate avranno un'emozione garantita che saprai di andare lì e che vivrai sicuramente una cosa già e questo già mi toglie questo già mi toglie tutto però però scusami è drammatico però è pazzo completamente pazzo invece di trovare un target di persone che va a vivere quello senza neanche poter avere veramente la pietra per farlo diventare in realtà cioè se tu non sai riconoscere il 95% delle canzoni e quando arriva quel 5% hai passato tutta la serata a non vivere niente che pubblico sei perché vai a sentire i puffi e che eroro a 18 anni ma questa cosa dell'età bro io non l'ho capita ma secondo te perché tipo normalmente è frequentata da quel tipo di target e quindi semplicemente il gestore della serata ha proposto una cosa vivi mai quei momenti della vita dove ti stanno arrivando così tanti bombardamenti emotivi in una sola serata che entri in una specie di pov film dove tutto ti investe anche le cose più agghiaccianti e tu diventi solamente un sacco che viene colpito da emozioni e non ci rifletti neanche però sono tutte leggendarie io mi ricordo che stavo così male e faccio ragazzi ma ma io ma perché sono tutti giovani perché non ballano ma come fanno a conoscere i cartoni vecchissimi questi giovani la bemaia mi spunta la faccia di martina vedi che haidi era vecchissima anche quando eravamo giovani noi e io oh vero e grazie perché perché ho vissuto così da solo questa cosa e l'unica cosa fanni è che stupi patrizio e martina mi vogliono molto bene e in più io faccio ridere quando sono scocciato c'è anche da dire questo sono un bel un bel brontolone di cazzo grazie a te tant'è tant'è che io quando c'era ah no il dettaglio la dj perché c'era una dj aveva il fatto che tu l'abbia specificato mi fa fare 4.000 punti di demanda me lo faccio appena chiudo la live che ci fosse una dj che ci fosse una dj ah io fosse donna no 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 solamente dj anche perché non c'era un remix c'erano tutte collegate in una specie di enorme medley ma non penso lei stava facendo così ma non cambiava un cazzo ehm certo certo e e dietro di lei c'erano dei video che ovviamente erano legati l'un l'altro quindi sono stati montati ma la buttana ha pensato bene di farli andare a volte a scatti per pompare l'effetto tecno ti faccio un esempio madre natura pensa sempre a noi la canzone dei buffi no? quindi e quindi magari nella scena c'è la gargamella che faccia lei ha montato il video così tu sei entrato in una stanza in cui le persone che erano lì non erano interessate a raccogliere tutti i dettagli che tu non potevi non raccogliere di questo ne sei conscio è questo che mi fa male e l'ho pensato anche lì ho detto ma tutti tutte queste cose di merda stanno arrivando alle persone a me succede che quando sto frequentando qualcuno se mi immagino anche altre relazioni e infatti voglio capire veramente anche la tua se c'era un distingo diverso fra Martina Patrizio e Stufi proprio inteso da fra Martina e Patrizio e Stufi perché se io andavo con una mia fidanzata una persona che stavo frequentando ad una festa e uno diceva tipo e vabbè a un certo punto mi sono sborrato in bocca e io rimanevo così e lei era tipo piegata per me era compromessa la relazione tipo perché stai ridendo per questa cosa cioè che succede se andiamo ad una serata del genere e la persona che sto frequentando si sballa tantissimo e non nota niente di quello io devo stare attento e dire ok devo cercare di non lasciarla stasera devo veramente cercare di di non chiudere la relazione per questo forse ho qualcosa che manca a me se non riesco a divertirmi forse ho qualcosa che non manca a me ma devo veramente fingere ogni singolo aspetto che mi riguardi pur di non gridare hai ragione hai ragione è sbagliato è sbagliato ma infatti il motivo per cui ho preso bene che loro la stavano prendendo pure male la serata di merda non era che ora ce ne potevano andare cioè non solo ma anche perché ok avete ancora il mio permesso per volervi bene perché se qualcuno di loro si io non mi sarei io mi ispiro alle persone che si divertono in momenti in cui non mi diverto cioè sono state altre nella mia vita te banalmente daniele e altri ma lì non c'era niente di bello quindi la persona che si stava una persona che si vuole divertire in quel momento là deve fare il coglione della serata e prendere proprio le redini una cosa che non ti ho detto un'altra cosa che non ti ho detto sempre il tizio del microfono a chitarra maschi urlo femmine urlo milano che vuol dire che sono tutte o due e quindi viene più forte urlo bravi magari lo sarebbe ed è comunque incredibile sapere che è anche il suo senso che questo per esempio nei confronti dei musicisti è anche sintomo di professionalità ovvero del saper fare scena perché fare scena è comunque anche meglio del saper semplicemente solo suonare che penso che abbia anche il suo senso nonostante quando lo vedi realizzato come? soprattutto in queste serate immagino ma soprattutto soprattutto immagino che se tu immagini veramente tipo dei musicisti super virtuosi bloccati così a fare la musica che fanno non trasmettono quel tipo di musica che dovrebbe essere è ambiguo è strano cioè può essere anche bellissimo ma tu che devi essere trascinato lì hai anche delle persone che stanno eseguendo tutto anche col corpo e secondo me quindi questa cosa ci sta tantissimo però l'illusione del principio della teatralità e della scenicità quindi dell'essere carriatore di animo che viene frainteso porta finché tipo una nota tipo dolce sentire come nel mio cuore è quello non lo utilizzo mai non lo utilizzo mai non lo utilizzo mai quando lo utilizzo per favore capiamoci è un po' cringione ti fa un po' cringiore il cuore niente che potesse mai sfiorare la consapevolezza di tutta la gente che era lì quella risata alla Red Redemption 2 e poi torni a sparare era verissima c'è stato un momento in cui la canzone di Heidi fa io amo lo yodel amo lo yodel sono un fan dello yodel veramente estremo se ti interessa e allora ho visto davanti a me questa ragazza che guardava il suo ragazzo e feceva e lui aveva questa faccia che comunque tu sei molto cucciolino e carino da pensare all'interno di Heidi con questa faccia da vecchio pedofilo però so che non era esattamente quella che volevi sei troppo carino per far avvertire troppo il disgusto com'è? com'è? sempre buonissimo ma non ti annoi a un certo punto? potrei chiederti la stessa cosa? no assolutamente perché io riesco a superare il livello riesco veramente a superare il livello di qual livello stiamo parlando? del livello del pungente del pungente? del topolino che ha inseguito il ragno del ragno che ha mangiato l'acar caro dell'agaro che ha mangiato il placton e che poi sono schiacciati sotto le mie shell che schifo comunque questa è stata la mia serata a mai dire Goku dopo siamo tornati e Martina non so che cazzo l'hai preso perché voleva continuare la serata eravamo io Tuvi e lei a casa sua dai guardiamoci un film erano le due di notte e io ero omega stanco e faccio ma come un film ma non vi è bastato e tutti e due dai Marco no bro io non ho mai visto niente del genere dai ok ok metto una puntata di American Horror Story che è una serie di merda di horror però che te la guardi perché è brutta e fa ridere e poi Martina decide di mettere i guardiani della galassia perché scopriamo che Stuvi non ha mai visto un film marvel dai guardatelo con noi ragazzi buonanotte vado a dormire au revoir loro si riempiono due caricioni di vino così io li guardo e faccio ma cosa non sto capendo di questa serata niente che ore sono che ore sono che ore sono due e mezza due e mezza tre vado a dormire mi sveglio di colpo che sono le sette e faccio ma dove è Martina mi alzo e trovo Martina così sul divano stuvi che dorme per terra è Filippo sopra il culo di stuvi che mi guarda e fa meno male Filippo e Pippo il gatto ho detto ma chi cazzo è entrato in casa chi è Filippo chi è aiuto è la televisione bloccata su uno screen di un cattivo e faccio i bicchieri manco finiti e dico è incredibile che nessuno mi abbia chiesto scusa in queste ultime 24 ore non succederà non succederà non succederà nessuno sono tornato a dormire mi sono rialzato che c'era Martina e le faccio coccolina come stai bene e tu mi è passato mi sono svegliato stupido si è svegliato si è andato a fare colazione e non abbiamo parlato per un secondo della serata di ieri perché mi aspettavo che lo facesse lui non l'ha fatto apposto ma quindi a un certo punto tu sei entrato in modalità è colpa mia no no neanche un po' è ovviamente colpa loro ma ma non ma non che voglio non voglio chiedersi scusa perché se loro mi dicono è stato bello ci sta io non ho nessun motivo per pensare il contrario o comunque lì ho ma se mi dite magari se state imbrogliando magari ci credete dalla bugia e state bene io non ce la faccio togliendo questo il problema è stato non captare già da internet che ti dice c'è una serata a mai dire Goku che sarà una merda ho chiamato Pinguz e faccio bro stiamo andando a mai dire Goku vuoi venire lui no e gli faccio grande ciao meno male che ci sono amici come Pinguz che non si aggiungono a queste merda dove tu sei incastrato eh si e qui finisce la mia fantastica serata mai dire Goku secondo te nel calice non finito nel frame di quello stoppato in loro addormentati c'era anche in qualche modo un ok dobbiamo finirla meglio stasera secondo te quali erano i due binari era il binario dove una la sintonia per andare oltre oltre quello che di bello abbiamo vissuto è veramente troppa riempiamoci calici di vino brindiamo alla vita guardiani della galassia oppure un fallimento 1 fallimento 2 non può esistere un fallimento 3 abbiamo sonno facciamo finta di no andiamo verso il possibile successo 3 mi stai chiedendo cos'è meglio da fare delle due no qual è il bivio che pensi che loro abbiano intrapreso no no io no non c'era nessun bivio loro l'hanno fatto perché the show must go on regola number one non c'è nessun bivio loro erano a posto queste sono comunque le cose che mi fanno veramente non solo riflettere totalmente sulla mia esistenza in senso solo orribile normalmente ma anche voglia sempre sempre di dire meno male che c'è l'arte non vi incontro per un po' non vi incontro per un po' vado a fare qualcos'altro io fortunatamente loro li voglio bene quindi non ero neanche incazzato perché era così non come discrimine loro ma proprio il fatto che io non vivo le emozioni ma neanche un principio della maggior parte delle persone che mi stanno accanto a me considerando anche se proprio vogliamo le persone che normalmente mi stanno intorno neanche come la maggior parte delle persone che esistono in questo senso quindi proprio il sentimento di solitudine ancora più riafforzato nel mondo perché non riesco a integrarmi neanche nelle persone che magari hanno già il loro sforzo di integrazione ma lo trovano ho capito io la vivo molto più alla Dragon Ball cioè che io sapevo che in quella serata la vivi molto più alla Dragon Ball è la tua risposta sì ma lasciamela prego prego io so che in quella serata c'era un altro Vegeta come me che semplicemente è stato trainato da chissà quale buttana che non si tromberà manco mai quindi tutto è inutile e che guardava l'infinito chiedendosi ma c'è qualche Vegeta quasi a me quello che voglio dirti amico mio Vegeta è che non solo c'è si chiama Marco Merrino e ti pensa non sei solo